Cercate anche le persone scomparsi? Non le cerchiamo, signora. Le troviamo. Siamo l'idea che mancava a Milano. Siamo una start-up. E un investigatore privato. Ma forse in queste cose... Perché aiuti tutta questa gente? Che cos'è una specie di espiazione? Vengo in pace. E te ne puoi anche andare in pace. Dammi retta, Luca. È gente pericolosa. Meglio se ci stai alla larga. Claudio, nella vita devi scegliere da che parte stare. E tu lo sei bene. A me dispiace per quello che è successo alla tua compagna. Ma capita a tutti di fare un errore. Non grande come il mio. Le persone quando se ne vanno si lasciano dietro dei gran misteri. Ma guarda che non è colpa tua quello che c'è. Certo che è colpa mia. Tu lo sai che cosa ho pensato io in questi tre anni? Mi sarebbe bastato poco per capire un dettaglio in particolare. Luca! Che hai scoperto? Niente. Ci hai messo tutto questo tempo. Solo un clandestino che un'interesse. Che hai messo tutto questo tempo. Mi sarebbe bastato. Chate che hai messo tutto questo tempo. Grazie.